Martina Stella incinta per la seconda volta? Il gossip di Spy Martina Stella incinta del suo primo figlio con il marito Andrea. Martina Stella e il marito Andrea sono sempre più innamorati e felice, a quanto pare a breve diventeranno genitori. . A farlo sapere è stato il settimanale Spy. L'ex concorrente di Ballando con le stelle ha già una bambina di 5 anni, Ginevra, nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini. Dopo la sua partecipazione al reality, la Stella aveva fatto sapere che la figlia molto spesso manifesta il desiderio di avere una sorellina con la quale giocare. . Dunque, l'attrice potrebbe aver deciso di assecondare Ginevra dando alla luce il suo secondo figlio. . Da quando il marito dell'attrice è entrato a far parte della famiglia, sembra aver instaurato un bellissimo rapporto con la figlia dell'attrice. Martina Stella e il marito Andrea ad oggi sembrano essere sempre più affiatati. . Sui social Martina Stella posta spesso delle foto insieme al marito, condividendo la sua felicità e serenità con tutti i suoi affezionati fan. . La coppia non ha ancora confermato la gravidanza, sarà davvero incinta? . Nonostante sul web girino moltissime voci sull'ipotetica seconda gravidanza dell'attrice, ad ogni la coppia non ha ancora confermato la notizia. . Ad ogni modo, Martina e Andrea non si sono nemmeno affrettati a smentire il pettegolezzo. . Dalle foto postate da Martina Stella non si vede ancora nulla, nemmeno un piccolo accenno di pancia. .